Buon pomeriggio, bentornati a Siamo Noi. Oggi vogliamo occuparci di chi tende ad essere dimenticato, di chi magari abita in case popolari senza manutenzione, senza acqua potabile, costretta a vivere magari con la colonna della condotta fognaria aperta. Parliamo dei dimenticati delle periferie italiane, scopriremo poi quanto questo termine ci va stretto, periferie e quanto altro c'è da metterci dentro. E lo facciamo iniziando da Roma, Casal Bruciato. A Roma c'è ancora chi è senza acqua potabile e fognature. Periferia sud, via di Torpagnotta. Queste sono le ultime case della capitale, qui si attende, ormai da decenni, l'allaccio alla rete idrica, un'attesa che sembra essere infinita, nella periferia dimenticata. Questo è il puzzo. Qui c'è la pompa e poi dentro le pompe elettriche con gli accumuli, filtri vari che... Ma qui parliamo di case abusive, perché non hanno la fognatura, non hanno l'acqua potabile? Assolutamente no. Parliamo di case che sono state costruite con regolare titolo edilizio. Le prime concessioni rilasciate in questa zona sono del governatorato di Roma e sono datate 1930. A pochi passi arriva la condotta idrica che si interrompe bruscamente per... basterebbe prolungarla circa 1000-1200 metri di condotta. Un chilometro e due. Assurdo, ma l'acqua è molto vicina. Le tasse, insomma, logicamente paghiamo tutto come è giusto. Però quando è il momento invece dei servizi, un po' meno, insomma, siamo un po' di serie B. Dimenticati e di serie B devono sentirsi anche i cittadini di via di Casal Bruciato, periferia est di Roma. A metà degli anni 70 vengono assegnati questi alloggi a circa 150 famiglie in difficoltà. Doveva essere una soluzione temporanea, visto che gli appartamenti non erano di proprietà del comune di Roma. Due, massimo tre anni di anni. Ne sono passati 43. E oggi, Casal Bruciato, appare come un mondo sommerso fatto di incuria, povertà e degrado, rimasti per decenni nel dimenticatoio. Non solo, dopo quasi mezzo secolo, gli abitanti di Casal Bruciato si ritrovano con una lettera in cui l'Ater, l'azienda municipale che gestisce l'edilizia popolare, comunica agli inquilini che dovranno lasciare casa. Qui c'è scritto che c'è la possibilità, possibilità, di un trasferimento temporaneo presso alloggi che si renderanno disponibili. Forse, quindi non sanno neanche loro dove dobbiamo andare se andiamo via da qui. No, non sappiamo che fine dobbiamo fare. Lei è pensionata. Io sono pensionata, prendo 800 euro al mese, pago 210 di affitto, però vorrei sapere che morte dovrò morire. Dispiace se ci dovessero spostare, però se le case sono pericolanti. Sì, perché purtroppo sono pericolanti. Guarda lì, non era così di prima? Stava all'altezza qui come questo. Cioè si è proprio abbassato totalmente l'asfalto. Guarda, lo vedi da qui? E qui sotto cosa c'è? I garaggi. Sopra c'ho la camera da letto, ci dormo qui. Cioè qui, questa è che sentiamo un odore pazzesco, fortissimo. È un pignature. I pilastri sono in mezzo ai liguami. Cioè andiamo via che l'odore qui è troppo forte. Lei abita qui, dentro qua, la macchina lì. Da quanto tempo? Saranno dieci anni. Dorme, mangia e fa tutto lì. Perché condizione sta? Chiamato tante volte per fare la manutenzione, nessuno si è visto. La fognatura aperta è in casa? Sì. Quando piove sta con il secchio al bagno. Il muro inizia anche a cedere. Sta cedendo il muro. Noi siamo dimenticati da tutti. Da tutti. Te vedi abbandonato così? Cioè, te prende male. Te prende male. Padre Claudio, la vedo molto serio e anche pensoso. Perché queste persone, molte di queste persone anche in età avanzata, sembrano proprio vivere in uno stato di sospensione. La signora ha detto, noi siamo proprio dimenticati da tutti. Guarda, noi italiani penso, ormai siamo abituati ogni sera a vedere questi lamenti, questi lamenti terribili della nostra Italia. Tutti i canali parlano più o meno di questa realtà. Però secondo me sottovalutiamo che queste persone dimenticate potrebbero al suo punto rivoluzionarsi tutti quanti. Le rivoluzioni partono sempre da chi è dimenticato. Io sono partita da lei, Padre Claudio, ora presento tutti quanti, perché Padre Claudio arriva da un altro quartiere periferico che tra poco insomma racconteremo di Roma e ci risiede da tanto, quindi l'ha visto cambiare sotto i suoi occhi negli anni. Quindi intanto le diamo il benvenuto, Padre Claudio. Padre Claudio Santoro, vicario della parrocchia di San Barla, Bar Roma. E poi accanto a lui Cesare Moreno, presidente dell'associazione Maestri di Strada, amico di Siamo Noi, ma insomma una persona che negli anni ha aiutato i ragazzi a cambiare il proprio destino, a prenderlo in mano. E' ben arrivato anche Cesare Fermi, responsabile Unità Migrazioni dell'organizzazione non governativa InterSOS. E poi ci colleghiamo con Milano, dove è con noi Gabriele Rabaiotti, che saluto, cui do il benvenuto, Assessore, ai lavori pubblici alla Casa del Comune di Milano. Anche lì le sfide sono tante. Ben arrivato, Assessore. Allora, Assessore, io credo che lei abbia ascoltato il nostro padre Claudio, adesso lo risentiremo ancora meglio. Non vogliamo essere troppo populisti, se diciamo che la cosa scontatissima, insomma che la politica in questi anni ha dimenticato troppo spesso dei pezzi di nostre città. Ma certo non l'ha dimenticata, e questa è un po' l'impressione, quando si tratta di sollecitare un po' le pance della gente, magari di ispirare guerre tra di poveri contro altri poveri, in quegli stessi luoghi. È un tema, questo che introducete, molto delicato. Nel senso che è vero che queste popolazioni sono forse le più facilmente ricattabili, anche dalla politica, da una politica che, possiamo dire, utilizza questa condizione di sofferenza e di distanza e di separazione, perché ci intravede un terreno facile di promessa, di qualche modo riscatto possibile, e queste popolazioni sono quelle più facilmente prese di mira. Facile promettere, complicatissimo rispondere a questa promessa e dar seguito in modo responsabile e pieno a quanto ci si impegna a fare e a dire. In questo le posso garantire, posso garantire a chi sta ascoltando, a chi è presente con voi in studio, che a Milano stiamo cercando di svoltare e di dare a questa, come dire, gestione, fatemi dire così, che mi preoccupa, che trovo un po' colpevole, uno sguardo e un taglio molto operativo. Cioè, il piano periferie è un piano che mette a fuoco dei contesti e in questi capisce come fare e che cosa fare. Ecco, perché, Assessore, spesso... A parte della promessa è un altro tema. No, la interrompiamo perché spesso questa parola periferie, che è un po' limitata, l'abbiamo detto, è immediatamente una connotazione negativa, ma poi le periferie delle città, insomma, rivelano delle ricchezze inaspettate, se le si sa accogliere e anche accompagnare. Qui poi abbiamo Moreno, ci dirà sicuramente qualcosa di più e qui ci spostiamo, per non essere troppo milanocentrici o romacentrici, anche su Napoli. Sì, sicuramente. Poi ascolterò volentieri anche che cosa le altre città, Roma-Napoli, hanno da raccontare. Voglio solo dirvi che per poter valorizzare le risorse, le opportunità che questi luoghi hanno, le hanno anche in modi sorprendenti, dobbiamo tornare a starci in mezzo, perché da fuori queste risorse sono invisibili. E noi siamo rimasti per troppo tempo lontani, lasciando questi contesti, questi territori e queste persone da sole. Ecco, un grande solitudine, Padre Claudio. Ci sono tanti modi di stare. Padre Claudio, lì, insomma, nelle zone difficili, togliamo la parola periferia che mi sa che le piace poco, ci sta da parecchio. Lì spesso la parrocchia si trova ad essere, come dire, un avamposto, non voglio dire l'ultimo avamposto, ma un avamposto importante, cui si rivolge anche a una popolazione lontana, diciamo, lo va dai valori della Chiesa. Sì. Diciamo che purtroppo, molte volte, è proprio la Chiesa che è lontana da queste persone. Queste persone vengono da noi, ma noi forse, sicuramente per molti, siamo lontani da loro. E magari tanti posti del Papa Francesco lo ha richiamato, dobbiamo uscire dai palazzi, dalle chiese, dalle istituzioni, dai sacramenti, vengono sempre quelli, autoriferenziali. Non ci accorgiamo che attorno alle parrocchie, limite parrocchie, propriamente detto, c'è un mare, un 70-80%, si parla di percentuali di gente, che è veramente della parrocchia, pur non essendo della parrocchia a livello sacramentare. Quindi io penso che, da parte della mia parrocchia, da parte tua e della parrocchia del mondo, che siamo sul territorio precedente, in modo precedente, quella della realtà che c'è adesso, di uscire da una certa dinamica di proselitismo, di missione per i sacramenti. Ma come dice il Papa, uscire... Ma chiesa in uscita. Uscire, uscire. Padre Claudio, devo dirle, io arrivo da Cagliari, della settimana sociale, che poi qui siamo noi, abbiamo seguito in vari modi, in diverse puntate, e ho colto i segni di un cambiamento grosso, in questo senso, di parrocchie che stanno sul territorio, che insomma operano in modi molto concreti, anche, nell'accompagnare i ragazzi al lavoro, nel combattere la dispersione scolastica, a proposito, di combattere la dispersione scolastica, insomma, Cesare Moreno, con sua moglie, che vogliamo anche ricordare, da tanti anni, ha raccolto la sfida, attraverso l'educazione, attraverso la cultura, di cambiare quel destino, di ragazzi che vivono le periferie di Napoli, che sembra segnato. Quello che voi avete visto negli edifici, dovete immaginare che succede nel cuore, e nella mente delle persone, la madre di tutta l'emarginazione, è l'emarginazione interiore, cioè il fatto di ritenere, di non potersi muovere, da dove si sta, ma non nel senso fisico, proprio nel senso mentale, e affettivo del termine, quindi l'educazione è una risorsa straordinaria, nelle periferie, non è una risorsa per i giovani, è anche una risorsa per gli amici. Voi avete fatto, ricordiamo il nostro pubblico, cose molto pratiche con i ragazzi, per fare in modo che, insomma, avessero anche loro gli strumenti, per entrare da protagonisti, anche quelli che a scuola, proprio non ci volevano entrare, neanche spinti a forza. Sì, la cosa straordinaria, è che noi in questi luoghi, per esempio, lavoriamo con la bellezza, perché portare la bellezza in questi luoghi, cioè fare in modo che i ragazzi scoprano il bello che ci sta dentro di loro, il buono che c'è dentro di loro, è fondamentale, perché se noi provvediamo soltanto, e non si provvede, però se provvediamo soltanto agli intoneci, alle fogne, alle tubature, ma poi dell'anima e del cuore, chi si occupa, quando si dice periferie dimenticate, la prima dimenticanza è di coloro che dimenticano se stessi, cioè dimenticano di essere delle persone capaci di cambiare se stesse e cambiare il mondo. Questo è un disastro. Mi offre un po' anche il là, per capire che, insomma, queste periferie istanziali, hanno poco a che fare con lo stato sociale, con il portafoglio, i fatti, per esempio, drammatici che ci consegna la cronaca di ieri, il ragazzo del Bangladesh, il lavoratore, veramente che usciva da una giornata pesantissima di lavoro, in un ristorante pestato, quasi a morte, da giovani ragazzi, insieme ad altri due suoi compagni, insomma, questo avviene nella centralissima Roma di piazza Cairoli, e qui si toccano diverse periferie esistenziali. Sì, quello che noi diciamo con uno slogan semplice è che le periferie del mondo, quelle delle città e quelle dell'animo sono collegate tra di loro. E quando c'è emarginazione interiore, poi questa emarginazione viene agita fuori. I giovani che picchiano sono giovani che non vanno d'accordo con se stessi, che hanno una rabbia, che non riescono assolutamente a gestire, e spesso sono troppo soli. Cioè l'educazione dovrebbe servire a questa, a stabilire legami, non a imparare delle cose. Ricreare relazioni. Ci torniamo su questo tema, perché vorrei coinvolgere anche Cesare Fermi. Voi operate, poi vedremo i progetti per cui avete raccolto fondi, ma adesso così, tanto per darci un'idea, voi come ONG vi trovate a lavorare in quartieri difficili della città in condizioni simili a quelle che trovereste in paese in via di sviluppo, che insomma sembra una contraddizione grottesca insomma in questa epoca, nella capitale. Sì, il mondo è cambiato parecchio, quindi nel senso purtroppo noi, il nostro compito era proprio quello di salvare delle vite, di arrivare in zone dove c'è un bisogno di sopravvivenza, di rispondere a dei bisogni umanitari primari. non ci saremmo aspettati anni fa, magari una ventina d'anni fa, quando iniziavamo a lavorare in certi teatri di conflitto, di guerra, poi di arrivare un po' di un giorno a lavorare veramente da noi, ma a fare gli stessi progetti. Sicuramente sì, dal nostro punto di vista noi ci occupiamo di migrazione, ma migrazione vuol dire ovviamente persone che si spostano e che vanno su un territorio che si... e che interagiscono con altre persone che vivono analoghe difficoltà. Esatto, e quindi per noi vedere che alla fine non è normale vedere che ci sono italiani che hanno estreme difficoltà, vedere persone che stanno migrando che reagiscono meglio alle difficoltà, che riescono a capire anche meglio la situazione, il tutto si genera poi, genera poi i potenziali conflitti che sicuramente vengono molto strumentalizzati. E immagino quanto sia difficile poi a quel punto operare, perché ci si trova quasi in teatri di guerra, dove insomma guerra non sarebbe possibile. Allora, io prima di continuare, di andare avanti, andare avanti anche visivamente, perché vi porteremo in un altro luogo, vorrei coinvolgere voi che ci seguite da casa e farlo attraverso il nostro Simone. Simone. La fisica e territoriale è il tema di oggi e soprattutto è la sfida che siamo noi a voluto raccogliere. Allora, vi chiediamo di dire la vostra su questo tema lasciandoci un messaggio in segreteria al nostro numero verde che è 800-22-88-96 oppure inviateci una mail a siamonoichiocciolatv2000.it lasciateci un commento sulla nostra pagina Facebook o un tweet a chiocciolatv2000 e seguiteci anche da cellulare e tablet scaricando la nostra applicazione. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Continuiamo naturalmente anche qui a breve a ragionare in studio, in collegamento con Milano, però noi vogliamo anche proseguire quel cammino iniziato con il nostro Vito De Torre, perché prima, un po' come ci suggeriva Moreno, abbiamo mostrato qualcosa di dentro, abbiamo mostrato tubature, intonaci, situazioni anche insostenibili, di mancata, assente totalmente, manutenzione che è totalmente assente. Adesso vogliamo parlarvi di un altro tipo di limitazione, proprio della mancanza di un orizzonte. Vediamo. Torbella Monaca sembra essere un quartiere popolare come tanti, una periferia di 30.000 abitanti, fatti di cronaca legati alla delinquenza, qui non sono un'eccezione. Negli anni, con l'assegnazione degli alloggi popolari, fatta di graduatori e punteggi, le storie più difficili di disagio sociale sono state ammassate ai margini della città, da una parte in questi palazzoni grigi. Una spada voglia vera e propria non l'avevo mai vissuta. Alla guida c'è Marco Bertolini, un operatore sociale che lavora a Torbella Monaca da quasi 30 anni. Si occupa soprattutto di ragazzi minorenni e ha scelto, ormai dal 1989, di lavorare in questa periferia, di restare, è il caso di dire, in prima linea. Questa è la zona dei pusher, questa è la zona dei pusher, tutta via dell'archeologia, una parte, insomma, e qui c'è gente che è di vedetta anche, per esempio questo signore può essere che sta di vedetta, le forze dell'ordine è qui. Quindi questo signore può essere che sta di vedetta, può essere, come no. E poi ovviamente, come avete visto, tutte queste macchine bruciate, sono macchine rubate, quindi, e qui sotto, qui ci sono i garage, ci sono, ne è pieno di dire furtiva. Anche questa è zona di spaccio? Sì, anche questa è zona di spaccio. Quella canzolì che la vedete? Non lo so. Alle a vedere? Sì. Questo signore sparava da questa portone, e rispondevano da una di queste finestre. Quindi si sparavano da una finestra all'altra? Sì, da una finestra all'altra. E questo è stato il mio primo impatto. Sì che io, quando è andato in cooperativa, ho detto, ma date anche nel metto e il gibbotto anticoiettili, perché mi sono trovato in questa situazione. Ma che è stata di piaga? No, solo le abitazioni, i palazzi. Tutto sempre? Perché queste palazzine non hanno bene? E il contenuto delle palazzine? Fa schifo, fa tutto schifo. Tu potresti spiegare meglio di me tante cose. Purtroppo la delinquenza dicono che sta qua, ma però il comune, lo stato che ha fatto, tutta la gente più disperata l'ha racgruppata a Torberra Monica. Allora chiaramente è normale che poi nascono i clan o spaccio, nascono queste cose. Le istituzioni che qua non sono presenti, ecco il problema qual è. È solo questo. Io faccio i cazzi mia, all'altro mi ha detto che il cazzo di me, io faccio i cazzi mia e cerco di fare quello che è meglio per me. Però non è bello. È asociale questo. Il mio pensiero, io lo so che è asociale, sarebbe più bello condivide. Però non se ne esce. Ma senti, tu mi fai una domanda già quando conosci la risposta. Non fai giornalista con me perché io ti rispondo a te. No, no, no. Come va a uscire se il governo non fa qualcosa per intervenire nei quartieri più in difficoltà? Ma tipo, che dovrebbe fare? Abbiamo una peneta che fa schifo a dirti perché c'è chi si va a buca? C'era una biblioteca qui, Cubo Live. Cubo Live. Non c'è più? Non c'è più. Che hanno fatto? Ci hanno messo degli stranieri extracomunitari dentro che è quello, non uno strumento, un posto che serviva culturalmente per il quartiere. Per i nostri ragazzini, io sono ragazzini di sette anni, sono grande l'età. Lei c'è un'attrice, ce l'abbiamo tutti i ragazzini. E non è giusta questa cosa. Cos'è che noi siamo, noi popolo, vento. Non è vero. Ma come non è vero? La gente non si rende coni. Noi siamo vento, se non siamo ammanicati politicamente con qualcuno che non diamo il voto in tanti a una certa persona, l'unica fiducia c'è tra di noi che stiamo qua. Però è l'aiuto tra poveri. S'aiutiamo tra poveri. Padre Claudio, ci aiutiamo tra poveri, detto proprio in romanesco, ce l'ha detto con molta chiarezza. E poi c'era quel paradosso, che raccontavano la biblioteca che non c'è più, anziché ragionare su chi ha deciso di chiudere quella biblioteca o comunque di destinarla a un'altra funzione, se la prendevano con altre persone in difficoltà quanto loro che sono immigrate e si trovano a vivere lì. Sono disperati, si chiama la guerra dei poveri, disperati contro disperati, uno contro l'altro. Io però insisto con l'idea prima che ho fatto della rivoluzione. Le rivoluzioni hanno cambiato la storia e le rivoluzioni passano sempre dalla base, dalla gente che non viene ascoltata. Adesso appunto questi, ora si lamentano, domani si lamentano, si mettono assieme. Anche l'assessore che ha parlato prima, i governi purtroppo sono millenni, millenni, i governi vi daremo strade, vi faremo cose nuove. Ormai l'umanità si è evoluta, comprende che quelli che stanno a palazzo, scusate, pensano al palazzo, e la periferia, una volta, la periferia era il 90% della popolazione, perché tutti servivano al palazzo. Per fortuna la periferia sta diventando meno. Non c'è sempre questa periferia di cui si servono tutti, cominciando da chi governa. Si servono tutti, ma nessuno la serve. E questo porta alla disesperazione, porta a un eventuale pericolo sociale. Senta, Assessore Rabaiotti, ha sentito padre Claudio e ha sicuramente sentito anche quello che diceva la persona intervistata dal nostro Vito De Torre, perché diceva una cosa giusta a mio parere, diceva tutta questa gente disperata messa insieme, perché poi c'è stata questa tendenza troppo a lungo andata avanti di unire indiscrimentamente 30.000 persone con problemi complessi, difficoltà importanti, tutte in un luogo e poi come dire chiudere le porte e dimenticarsene creando così di fatto già le condizioni per l'esistenza di Ghetti e queste periferie non ci piacciono. Sì, non è che non esista una ragione, anche se è pesante dirvelo, ma in certi anni quelli dell'esplosione demografica e quindi della crescita spropositata delle città, queste aree servivano per poter dare in tempi brevi o ragionevoli una risposta al tema della casa purtroppo isolando il tema della casa dal resto ad esempio il tema del lavoro il tema del collegamento con altri pezzi di città e di territorio delle università esatto, quelle aree costavano molto poco e si è costruito in modo molto industriale per poter rispondere subito a quella domanda ecco, da un lato quindi esisteva una ragione io adesso ero piccolo quando questa cosa è successa però se la studiamo non era una follia completa è diventata si è trasformata in una follia completa quando abbiamo completamente isolato questi pezzi di città dicendo abbiamo risposto al problema e non capendo che il problema stava anche altrove sul tema della score come i testimoni che sono in studio hanno raccontato sul tema dei servizi aggiuntivi lo sport il verde la cultura abbiamo detto risposta alla casa abbiamo detto ok, la cosa si è chiusa lì e invece non era vero non è così e infatti Assessore diciamo lei prima ci diceva noi stiamo cercando di intervenire ci rassicurava diceva di occuparci di tutto questo sappiamo che state andando in quella direzione io pensavo a quanto ha detto padre Claudio il palazzo voi amministratori mi sembrate rispetto al palazzo parecchio in prima linea capita che poi tutte le frustrazioni dei cittadini si siano direzionate insomma si rivolgano a voi con quali strumenti vi sentite di avere degli strumenti adeguati per poter intervenire o vi sentite soli c'è una grande solitudine anche degli amministratori su questo piano solitudine non vorrei dirlo forse esagerato di sicuro dobbiamo tornare ragionando col governo a mettere al centro il tema delle grandi città perché le grandi città hanno questioni che altri pezzi di territorio non sentono e non avvertono e su questo secondo me va riaperto una questione anche con il governo di una linea di intervento e di pensiero rivolta alle grandi città e alle grandi contraddizioni che viviamo nelle grandi città quindi non in solitudine ma sicuramente un lavoro un mestiere complicato dopodiché c'è modo di farlo noi stiamo avvertendo con forza e responsabilità il fatto che se non torniamo in questi luoghi abbiamo perso la partita dall'inizio c'è altro modo di amministrare da livello locale forse sì io sento questo tipo di necessità e su questo credo che dobbiamo misurarci oggi e domani questa è una sfida grossa delicata da cogliere Moreno facendo un passo avanti in una situazione difficile contraddittoria che non si saurisce oggi ma l'importante è essere un po' lungimiranti so che voi avete messo in piedi tante iniziative prima si parlava di biblioteche anche di buona collaborazione con le amministrazioni e con le istituzioni però volevo chiederle proprio una prospettiva di speranza come si fa a essere ascoltati da ragazzi che di fatto si sentono abbandonati dimenticati in queste periferie così come stiamo incontrando si è abbandonati anche noi ho incontrato recentemente un amministratore comunale a cui la collega diceva come va nelle Filippine non riuscivo a capire pensavo che fosse stato in vacanza no no ma perché c'è uno scherzo tra di noi perché io sono come il giapponese dimenticato nella giungla sto ancora combattendo mentre gli altri sono ritirati e noi siamo un po' così e l'assessore giustamente dal suo punto di vista dice ci dobbiamo occupare delle grandi città io dico dal mio punto di vista ci dobbiamo occupare dei piccoli vicinati perché è da lì che si comincia quando le persone non si sanno occupare di sé chiedono a altre di occuparsi i signori architetti anche nome di grido che hanno progettato questi quartieri non nell'urgenza ma con la dovuta calma hanno progettato dei quartieri in cui pare studiato apposta per scoraggiare i contatti adesso io mi sto occupando di una scuola che deve essere trasferita di 300 metri quindi nulla di straordinario ma in quei 300 metri ci passa praticamente una strada che dovrebbe servire quattro case ma è più grossa che un'autostrada e lì si corre a 100 all'ora per cui per un genitore passare da un lato all'altro della strada significa attraversare un mondo ora chi ha pensato questa urbanistica ha pensato che gli abitanti del lato A non dovessero comunicare con il lato B e quindi quello che poi succede finisco subito è che nel lato A ci sta la banda X nel lato B ci sta la banda Y e noi non ne usciamo mai i costruttori di case prima di costruire le case dovevano costruire relazioni questo non lo sapevano 50 anni fa la partita hanno perso 50 anni fa non oggi adesso è già troppo tardi non l'hanno capito 20 anni fa e non lo capiscono ora perché pensano ancora cemento 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 perché sul cemento si guadagna sulle relazioni un pochino di meno noi ci occupiamo di relazioni meno cemento più amore ecco la difficoltà c'è ed è questa qua mi sembra che l'assessore prima facesse riferimento anche alla ragione per cui sono nate queste quasi città satelliti è ottimista però ecco con ottimismo però diciamo assessore è importante chiamare in causa in una cooperazione a parte la società civile le amministrazioni ma anche chi pianifica i grandi urbanisti e mi sembra che voglio essere ottimista anch'io Moreno qualcosa in questa direzione si muove si comincia a parlare di li chiamano rammendi urbani grandi architetti abbiamo visto l'impegno di Renzo Piano che ha chiesto ai ragazzi di diverse città d'Italia di riprogettare quelle zone partendo da quanto di positivo di buono c'è sì sì indubbiamente questa cosa è molto forte e ragionevolmente è successo anche il contrario diversi anni fa tutto questo è ispirato anche a delle culture della progettazione e anche a un'idea di città ci siamo resi conto che il tema della relazione è un tema cruciale collegamento connessione è una forma di coesione all'interno delle grandi aree urbane è decisiva difficilmente vedremo ancora domani grandi agglomerati popolari monofunzionali che crescono e si sviluppano nei bordi della città oggi è più recupero di aree industriali utilizzate è il tema della cucitura e del rammendo tra pezzi che cercano nuove identità la città oggi è prevalentemente fatta e viene rifatta e ripensata dentro a queste operazioni non posso negarvi che esistano anche forze che spingono per la speculazione del mercato e che cerchino di massimizzare il loro reddito abbiamo esempi lampanti questo è un compito del pubblico riuscire a ridurre questo tipo di aspettativa e a mescolare alla parte di utilità privata il pezzo di pubblica utilità e di interesse collettivo se non facciamo questo compito abbiamo perso la partita ecco questa è una strada assessore sulla quale vogliamo incamminarci padre Claudio lei è venuto spesso a raccontarci anche a volte con un tono un po' severo su questo tema che insomma la sua esperienza nel quartiere dove opera che è piuttosto ampio anche di dimensioni le persone più umili spesso quelle che hanno meno mezzi poi si sono rivelate inaspettatamente anche le più generose io vorrei che ci ricordasse anche quella iniziativa che si sta diffondendo a macchia d'olio per esempio la raccolta di pane nel quartiere quest'anno aderendo parecchie persone diversi panifici la risposta malgrado le difficoltà malgrado la guerra tra poveri insomma c'è la solidarietà aumenta sempre più i poveri la povertà unisce i popoli la miseria li fa diventare pazzi la povertà unisce i popoli e si torna a quella famosa solidarietà circolare cosiddetta circolare perché uno a uno manca il pane bussa la porta vicina e gli da le uova al posto del pane e così questa solidarietà direi proprio circolare sta aumentando sempre più tra noi poveri quindi ecco il pane che viene dato i vestiti che vengono usati che vengono magari acquistati in una bancarella di aver usato così con i soldi che tu dai noi ti compriamo il sale ti compriamo l'olio ti compriamo la pasta e quindi questo è un movimento meraviglioso della solidarietà dei poveri che insieme costruiscono e anche di vicinanza tra piccole comunità relazioni come ci diceva Moreno allora padre Radio la nostra Antonella Ferrara lo sa perché si è messa praticamente alle sue calcagna l'ha seguita in giro per forni e panetterie certo ecco siamo di fronte alla scuola Pisacane dove l'80% degli alluni vengono da tutte le parti del mondo e qui sotto la scuola Pisacane facciamo il primo carico di pane e la prepara il venditore di fiori ciao alle 6 alle 7 di mattina l'unico sono io ho aperto il fioraio mi lasciano io aspetto il padre e bene mi arriva le metto dentro la macchina io ho una cosa sento che è molto bene a farla così almeno aiuto pure io e gli altri ecco dopo il semacro c'è il forno spiega d'oro ciao a tutti c'è il pane ciao buongiorno buongiorno grazie 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 tanto buongiorno 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 come va c'è il pane penso che sia una bella cosa e faccio per il bene di Dio aiuto le persone che ci hanno bisogno grazie 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 mi ha visto quanta energia positiva poi insomma il nostro padre Claudio proprio con quelle sacche piene di pane era bello vederlo così voi come intersozia avete di recente proprio terminato una raccolta di fondi con quale obiettivo? noi abbiamo appena aperto un nuovo centro la torre spaccata e questa è un po' appunto la novità per noi un centro in favore di minori stranieri non accompagnati ma che però offre al suo interno anche un ambulatorio sociale cioè un ambulatorio gratuito per il territorio infatti noi abituati appunto a lavorare dicevamo nelle periferie del mondo non quelle dell'Italia ormai in realtà le dinamiche che vediamo nelle grosse metropoli italiane ricalcano purtroppo sul nascere quello che conosciamo bene all'estero l'obiettivo della raccolta fondi è portare avanti questo centro che a un lato rivolta a una categoria estremamente vulnerabile che sono i minori stranieri che vengono da soli in Italia e vogliono rimanere nascosti quindi sarà un centro di accompagnamento di urno inizialmente sì è un centro che noi abbiamo già aperto dal 2011 l'abbiamo solo spostato appunto noi abbiamo fatto il contrario dal centro di Roma siamo usciti in periferia anche se il centro di prima era vicino alla stazione siamo andati apposta nella periferia proprio perché oltre a lavorare con questi giovani questi ragazzi stranieri vogliamo lavorare anche con i ragazzi del quartiere poi ci sarà un poliambulatorio ho letto un poliambulatorio che si indirizzerà non soltanto agli stranieri ma insomma no anzi il poliambulatorio sarà molto più probabilmente diciamo per i cittadini perché ormai più che il concetto di straniero o di residenza usiamo quello di cittadinanza perché include poi veramente tutti perché ci sono ormai italiani di prima seconda terza generazione non è proprio più possibile in certe zone distinguere l'ambulatorio sarà aperto assolutamente a tutti ed è un servizio che sebbene sulla carta e per legge e nei programmi dovrebbe essere già assolto dal governo in realtà di fatto non esiste e quindi noi diamo una mano sicuramente a farlo ecco allora scorre il tempo però Cesane Moreno io so che tu a breve riceverai un premio importante premio Napoli cultura 2017 e so che ti ha fatto particolarmente piacere quel cultura abbinato a Napoli sì perché molti ragionano in termini delle periferie dove bisogna portare l'avamposto culturale quasi che fosse il fortapascio in mezzo ai selvaggi diciamo che noi abbiamo un po' fatto l'operazione opposta cioè la cultura non è quella che sta nei libri sono i modi di vita delle persone quindi in periferia c'è cultura e c'è come diceva anche padre la cultura del buon vicinato la cultura dell'aiuto reciproco che certamente è anche quello del pezzo di pane ma soprattutto è quello di comprendere il dolore e la difficoltà degli altri che è molto più difficile che non dare un pezzo di pane quindi quello che noi facciamo è di costruire cultura e soprattutto poi questa cultura farla sentire a quegli altri cioè dalla periferia di portarle in centro e non in termini rivoluzionari o rivendicativi ma in termini di bellezza che abbiamo e che produciamo e che è vera ed autentica molto di più delle bellezze ostendate nei luoghi del lusso e che esiste poi un diritto alla bellezza veramente che va garantito e protetto e esteso noi ce lo garantiamo da soli questo è fondamentale fare le cose da soli cioè con la solidarietà di quelli che vivono nella stessa condizione è decisivo perché per troppo tempo siamo stati abituati all'attesa l'attesa non ci interessa Raba Iotti Assessore però diciamo fare le cose da soli poi diciamo non sempre basta Moreno è riuscito a fare tantissimo ma serve poi l'istituzione presente serve quell'attenzione però dal basso arrivano molti segnali positivi che si possono raccogliere io leggevo questi giorni leggevo per esempio la sartoria che è nata a Branzate quartiere difficilissimo di immigrazione fiori all'occhiello creata da una giovane donna marocchina moglie di disoccupato insomma tante sono le iniziative che possono essere canalizzate qui c'è un'opportunità significativa da cogliere di collaborazione e di sussidiarietà tra società civile da un lato e istituzioni dall'altro ed è un'occasione che se la perdiamo adesso è davvero un treno che non ripassa più ci dobbiamo volerla io come dire non vorrei aver sentito nelle parole degli ospiti presenti in studio anche un po' la tendenza a dire da una parte ci siamo noi dall'altra c'è l'istituzione no non credo fosse questo credo fosse insomma il lamentare un'assenza troppo una disattenzione durata troppo a lungo sì sì ma su questo sono d'accordissimo vi dico vengo da esperienze di volontariato che ho fatto per tanti anni e sono assessore perché mi hanno chiesto di farlo però l'ho fatto anche per questo motivo che riagganciare rimettere in circolazione il rapporto tra società civile con le sue reti risorse capacità progettuali e la forza dell'istituzione quando è presente è fondamentale decisivo da soli penso che negli uni negli altri riescano oggi ad affrontare le sfide che la città ci pone ecco e quindi l'invito mio è un invito a noi stessi amministratori ad aprire come dire le porte allargare questo sguardo e ad uscire ma dall'altra una comunità civile a una società ad essere reattiva presente pronta anche a fare operazioni che diventino delle politiche per il domani ecco io la fermo qua perché purtroppo il tempo che avevamo è terminato però su questa sfida del noi che ci riporta al nostro punto di partenza è ovvio che questo argomento ci terrà occupati per parecchio ci torneremo ci domanderemo anche come sostituiamo questa parola che non ci piace periferia un po' limitata grazie a tutti i nostri ospiti e vi ricordo che torniamo domani puntuali alle 13 e 50 restate qui dopo la pubblicità torna la telenovela Maria grazie grazie a tutti grazie a tutti